Assessore Marcheggiani, vogliamo spiegare cos'è questa Greenway della riserva danunziana? È un progetto innovatore che ha come parola chiave l'inclusività, perché sono previste delle vie verdi, Greenway danunziane, delle vie verdi sia ciclabili che pedonali. È bello perché nelle vie pedonali sono inseriti anche dei percorsi per le persone più sfortunate di noi, che non sono dotati di una mobilità eccellente o anche per difetti sensoriali. In questo progetto si acquisano dei tricicli che possono essere guidati anche da queste persone e che quindi nella più totale tranquillità possono percorrere e sentirsi avvolti dalla bellezza della nostra riserva. Inoltre parlavo di inclusività perché oltre a pensare alle persone meno fortunate di noi, abbiamo anche una serie di piste ciclabili che poi si vanno a riconnettere con la Bike to Coast, per cui c'è una inclusione della nostra riserva anche dal punto di vista turistico e per tutto quello che sarà il cicloturismo che sta in grande espansione a livello nazionale. Quindi ci ricolleghiamo alla pista ciclabile verde dell'Adriatico.